La Compagnia degli Incompresi La Compagnia degli Incompresi L'autore Pasquale Quaglia è stato segnalato da Renato Ongania, presidente dell'Associazione Amici di Ron, per il testo teatrale L'Alba che non riabbracciò il tramonto, corto teatrale già finalista alle seconde edizioni delle rassegne teatrali, Shoah oltre la memoria e Voci dalla Shoah, premio Settimi a Spizzichino e Ianni Rubati e vincitore della sezione teatro del premio poetico nazionale Amici di Ron. Alla presenza del generale Domenico Rossi, sottosegretario di Stato alla Difesa, del magistrato Cosimo Maria Ferri, sottosegretario di Stato alla Giustizia, dell'onorevole Teresa Piccione, deputata della Camera, dell'avvocato Francesco Urraro, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola, dello scrittore Pino Nazio, giornalista della RAI e del professore Carlo Pacello, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Parlamento della Legalità Internazionale, l'autore Pasquale Guaglia ha ricevuto l'attestato di riconoscimento.